Il gesto del saluto, mani al cuore, giunte, forti. Sentite il palmo destro che ascolta il palmo sinistro, il palmo sinistro che ascolta il destro. I due palmi che ascoltano lo spazio tra le mani. La Dea della Terra con la mano sinistra sul cuore, distesa, palmo attaccato al torace e la mano destra col dorso in avanti e la punta delle dita a terra. Sentite con la mano sinistra il cuore e con la punta delle dita della mano destra la terra. E poi il gesto dell'offerta, la mano destra col palmo rivolto in avanti, la mano sinistra chiusa a pugno.